L'Ama Michelle Ripnosh sarà ospite della prossima puntata di Essere Benessere e l'Etica del Vivere, in onda lunedì 14 settembre alle ore 21 o visibile in streaming collegandosi al sito telecolor.net. L'Ama Michelle illuminerà cuori e coscienze con le sue profonde riflessioni e il supporto della filosofia tibetana, fonte di benessere spirituale. Una puntata più che mai da non perdere.